Cari amici, continuiamo i nostri incontri guidati dal testo del Deuteronomio, un testo che ci aiuta ad entrare in profondità nel nostro tempo, in questo tempo particolare che stiamo vivendo. Domenica prossima inizierà il tempo dell'Avvento, anche questo un tempo favorevole e propizio per approfondire la parola di Dio per la preghiera, per la riflessione. Iniziamo con una preghiera insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male. Benvenuti nella Chiesa di Santa Maria al Giglio. Una delle immagini mariane della nostra terra, tante immagini mariane della Madonna che allatta, Madonna che abbraccia la vita, che sostiene la vita. La Madonna col bambino è un segno di vita in un modo speciale, non solo perché ci ricorda l'incarnazione di Dio che si è fatto bambino, ma ci ricorda l'amore materno che abbraccia e sostiene la vita. E in questa stagione, in questo piccolo servizio di collegamento con voi che siate nelle case, un pensiero ci sia costante alla vita e anche in prospettiva del Natale. Fate cose di vita. Le nostre immagini, la storia popolare di tante delle nostre Chiese è un incoraggiamento, un invito, un invito accorato alla vita, a amare la vita in tutte le sue forme, non soltanto quella delle immagini degli affreschi ma la vita attorno a noi. E potremmo incoraggiare come prepararci a Natale se non facendo gesti di vita in famiglia o in parrocchia, laddove siete, nel lavoro dove vi trovate a vivere, rinnovare segni di vita, nemmeno ripeterli, rinnovarli. Il Papa ci ha invitato nella giornata mondiale per i poveri a tendere la mano al povero, ma anche al prossimo, al vicino, al vicino di casa, fare gesti di amicizia, di vita, di suderità, di servizio reciproco, di cordiale carità reciproca. Qui in questa Chiesa all'inizio quando fu fondata la Chiesa fu chiesto di preoccuparsi dell'ospitalità di almeno otto persone malate. La storia continua e continuiamo a cercare di ospitare almeno otto persone, poi sono un multiplo di otto. Siamo onorati però di affrontare la pandemia dando un tetto e un posto a tavola non a otto, a sedici, a ventiquattro, a trentadue, ma circa quaranta persone che dormono e vivono qui. In gran parte sono della nostra terra, del Val d'Arno, in gran parte sono persone cresciute in Val d'Arno. Poi c'è qualche persona che viene da oltre il mar Mediterraneo dall'Africa, dall'Asia, dal lontano, dall'America, ma in gran parte sono persone trovate in difficoltà e pur nate nella nostra terra. E tanti vengono a prendere viveri. Qui alla Caritas incollegiata, alla San Vincenzo dei Paoli, all'Evane, nelle parrocchie dei dintorni, è piccolo soccorso. Sono piccoli segni di vita. Ci impegniamo come comunità parrocchiali a non essere distratti rispetto ai bisogni di vita di tutti, anzi raccontateci. Se avete a segnalarci persone e famiglie in difficoltà non abbiate riguardo a cercare i vostri preti per dire c'è quella persona che ha una difficoltà e con garbo, riservatezza, ma anche con coraggio bisogna dare aiuti di vita. Grazie. Prendiamo di nuovo in mano questo libro, il libro del Deuteronomio, e lo vogliamo fare anche per aiutarci a capire come rispondere alla situazione di questo tempo che stiamo vivendo. È un libro, ripeto alcune cose, che nasce come risposta, rilettura degli eventi della storia del popolo di Israele per rispondere a situazioni di grande prova e di grande difficoltà. una fu non solo quella dell'esodo, il cammino nel deserto, l'altra fu quella dell'invasione degli assiri nella Palestina e in Samaria e poi sarà l'esilio babilonese. Una risposta a queste situazioni ha cercato di darla questo libro e la parte del libro che vorrei offrire alla vostra attenzione e oggi è il capitolo, dal capitolo 12 al capitolo 26 e questo ci fa riandare all'episodio che ha dato origine all'interesse per questo tema e per questo libro. Quello che ha raccontato nel libro dei rei con con una data precisa al tempo di una monarchia con un nome ben preciso è l'anno 622 avanti Cristo, settimo secolo avanti Cristo. Il re a Gerusalemme, Giosia, diventato re come il discendente della famiglia di Davide a otto anni, pensate un po', e a un certo punto della sua giovinezza, dopo diciotto anni di regno, decide di intervenire per ridare una direzione alla vita del suo popolo. Erano stati prima di lui sia suo padre per breve tempo, sia suo nonno Manasse per 50 anni, avevano aperto le porte all'idolatria, avevano davvero portato Gerusalemme e il suo regno ad una situazione di grande apostasia. Giosia, dopo i primi anni del suo regno come un piccolo Dalai Lama, a otto anni, diventò re, la madre lo guidò e poi si mise di impegno a ritrovare le radici della sua fede e della sua storia. E nell'anno 622, facendo dei lavori di restauro nel tempio di Gerusalemme, fu trovato un libro, una scoperta, una scoperta importante che portò detta ispirazione a Giosia per ripartire e offrire di nuovo al suo popolo una strada per ricominciare. Ed è, secondo i critici e gli storici, questa parte del Deuteronomio è il libro della legge, come viene raccontato nel secondo libro dei Re, dal capitolo 12 al capitolo 26, che è gran parte di questo libro. È in nocciolo, si può dire, il contenuto primario di questo libro che poi è cresciuto, seconda delle situazioni della storia e dei bisogni del popolo di Israele. Un insieme di leggi comincia proprio così. Queste sono le leggi e le norme che avrete cura di mettere in pratica nella terra che il Signore tuo Dio ti dà perché tu la possegga finché vivrete nel paese. E' sempre le parole di Mosè. Questa è una finzione, chiaramente, che porta però un messaggio, un invito a vivere, ad applicare le leggi e le norme. La riforma di Giosia partì da questo testo, che è un po' il testo base e ispiratore di questa riforma. Su tre punti in particolare, e soprattutto su tre punti, sul piano religioso, sul piano istituzionale, politico, si direbbe, e sul piano sociale. Sul piano religioso intraprese queste due riforme importanti. Primo, un solo Tempio, che era un po' la diffusione di tanti piccoli templi, ma dedicati agli idoli. A Gerusalemme era successo come era successo prima in San Maria. L'idolatria aveva preso campo, la gente era devota di mille divinità. E allora Giosia fece un intervento radicale, e anche a volte anche piuttosto violento. Distrusse tutti i luoghi sacri dedicati agli idoli. E stabilì che ci fosse un Tempio solo, un luogo solo dove venerare il Signore. Più volte c'è questa espressione nel libro del Deuteronomio, invitando a fare il culto nei luoghi che il Signore Dio vostro avrà scelto come sua dimora. E' una chiara allusione al Tempio di Gerusalemme, anche se non lo cita mai, però un luogo solo. Quindi riunire il popolo intorno al culto dell'unico Dio. E l'altro intervento sul piano religioso famoso, importante, è le regole per la celebrazione della Pasqua. Forse, o senza forse, quella Pasqua, come si celebrava al Tempo di Gesù, con la cena, l'immolazione degli annelli, l'agnello, le preghiere, e come anche si celebra oggi presso gli ebrei, ha avuto una sua struttura e una sua codificazione proprio da parte di Giosia, che stabilì il rito, le regole per la celebrazione della Pasqua. A lui si deve questo atto ed è ricordato nel libro dei Re, con queste parole che sono importanti, dice, il Re ordinò a tutto il popolo, celebrate la Pasqua in onore del Signore, vostro Dio come è scritto nel libro di questa alleanza. Difatti, una Pasqua simile a questa non era mai stata celebrata dal Tempo dei Giudici, che governavano Israele, ossia per tutto il periodo dei Re di Israele e dei Re di Giù. E questo accade nell'anno diciottesimo del Re Giosia. Con precisione, 622, una Pasqua così non era mai stata celebrata. Quindi l'intervento, questi sono solo due dei punti importanti sul piano religioso, dove Giosia intervenne. Un unico Dio è una celebrazione della Pasqua straordinaria, che sarà la regola per la Pasqua di tutti gli ebrei nei secoli futuri. L'altro intervento è sul piano istituzionale. L'organizzazione, si può dire l'organizzazione dello Stato sul piano politico, con tre ruoli e tre funzioni fondamentali. C'è un capitolo dedicato a questo, il Re, i sacerdoti e i profeti. Ognuno con un ruolo, ognuno con una funzione. Il Re guida, stavo per dire detta legge, non detta legge. Il libro si ispira alla Torah e applica la legge al popolo di Israele. Il sacerdote esercita il suo servizio nel culto, nel suo compito. Il profeta è quello che cerca di interpretare gli avvenimenti alla luce della parola di Dio. Re, profeta e sacerdote. Tre ruoli, tre compiti, tre elementi importanti nella struttura della vita del popolo di Israele. Se ci pensiamo bene, anche nei nostri Stati moderni, sono diversi settori della vita che vengono gestiti da autorità separate e distinte. Mi piace però ricordare queste tre funzioni, questi tre doni, questi tre compiti stabiliti al tempo di Giosia per ricordare, come il Concilio ci lo ricorda, come noi cristiani siamo un popolo di Re, Sacerdoti e Profeti. Ogni cristiano ha in sé questo dono e questo compito, potere regale, sacerdotale e profetico. Regale è un compito politico, un compito che è quello di guidare la vita e la storia delle persone nella società e nel mondo. Il compito sacerdotale che è quello di fare da intermediari i confronti di Dio, pensiamo ai sacramenti, pensiamo alla nostra fede vissuta nelle nostre famiglie, nelle nostre case, la preghiera. Il compito profetico che è l'ascolto e l'interpretazione della vita alla luce della parola di Dio. Questi tre ruoli, sacerdotale, profetico e regale, noi li ritroviamo anche, il Concilio ne parla molto, soprattutto nella Lumen Gentium, nel ruolo e nel compito del cristiano nella vita e nella società. L'altro elemento di cui si occupa questa parte fondamentale del Deuteronomio sono le regole della vita sociale. Ci sono regole particolari. Sappiate che questo codice, capitolo 12, 26 del libro del Deuteronomio, non ha un'organizzazione ordinata, è molto frastagliato, però tocca avvenimenti e elementi importanti che Giosia assume e prende per ripartire, per ritornare. Credo può offrire anche a noi delle riflessioni importanti per la nostra vita. L'ultima cosa che c'è in questo libro, alla fine di questo codice, c'è quello che viene chiamato il Credo di Israele. Si racconta di un rito, si racconta di un gesto che si compiva ogni anno, si racconta e si riferisce di una dichiarazione, una vera e propria dichiarazione di fede che ogni ebreo faceva ogni anno. Il famoso, chiamato così, il Credo di Israele, è il capitolo 26, dove si fa a memoria. E questo è un altro elemento importante, perché la riforma si fa senza dimenticare il nostro passato. Conservare la memoria, l'importanza della memoria della nostra storia è un elemento fondante sempre per il futuro. È quello che ci viene richiamato tante volte anche a noi, che veniamo accusati oggi di essere un popolo senza memoria. e tutti dicono che se perdiamo la memoria del nostro passato non siamo capaci di entrare nel futuro. Il testo di questo Credo di Israele dice così. Lo leggo anche come conclusione di questo incontro. Veniva fatto portando le primizie al Tempio, quindi i frutti della terra, come abbiamo fatto in parte in questi giorni, presentandoli nel Tempio al sacerdote con queste parole. Mio padre era un arameo errante e si riferisce così a Giacobbe. Scese in Egitto, vistete come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egeziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio teso, fargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra dove scorrono latte e miele. Possiamo far nostro anche noi questo credo e confidare che il Signore che ascoltò il grido del popolo di Israele, servo e schiavo in Egitto, intervenne per sollevarlo e per aiutarlo e per liberarlo. Può essere un augurio anche per noi che in questo tempo in cui manifestiamo a Dio tante prove e tante sofferenze il Signore possa intervenire e darci forza per ricominciare, ripartire, illuminati dalla Sua parola. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Poiché il tuo cuore è fatto per il Dio, la tua anima lascia andare a Lui, fuori del suo volere e vano ogni sforzo. Fisserai nel cuore la legge del tuo Dio, ai tuoi figli la ripeterai, sarà legata alle tue mani, i tuoi occhi la fisseranno sempre. Guardati dal dimenticare il tuo Signore che ti fa abitare nella terra del suo amore, terra che non hai lavorato e che non ti sei conquistato, nella quale è reso libero ogni popolo di credere, sperare e amare. Unico è il tuo Signore, unica sarà la tua fede in Lui, unica la famiglia umana. Un solo corpo, un solo spirito, sarete voi chiesa nel cammino della storia, in Gesù Cristo, parola vivente del Padre, fino alla consumazione dei giorni.